Bormio titolare di un bar arrestato per droga, Dioli, ricerche, riprese, subito sospese, teatro sociale, prima stagione da record, poi Livigno, estate 2016 a tutto sport e come sempre lo sport pallavolo a Chiavenna, finali regionali, FIPAF Under 14 femminili. Questo è d'altro nel notiziario di TSN, benvenuti. Sono riprese all'alba di questa mattina le ricerche di Roberto Dioli, il giovane sci alpinista di Caspoggio, disperso da mercoledì 20 aprile in Valmalenco, quando era uscito con l'intenzione di raggiungere il pizzo Veruna. Le operazioni di soccorso che si sono concentrate questa volta sul versante svizzero sono però state nuovamente interrotte in tarda mattinata a causa dell'abbondante neve caduta in quota negli ultimi giorni. Purtroppo del giovane non è ancora stata trovata nessuna traccia. Arrestato con quasi 20.000 euro di stupefacenti un barista dell'Alta Valle, l'operazione guidata dai carabinieri di Bormio. Vediamo. Operazione antidroga dei carabinieri in Alta Valle nella serata di lunedì 25 aprile che ha portato al sequestro di diversi quantitativi di cocaina, marijuana ed ecstasy, destinati al mercato locale che avrebbero fruttato tra i 15.000 e i 20.000 euro. Gli uomini dell'arma guidati dal comandante di Bormio Giovanni Frascello hanno scoperchiato un'importante centrale dello spaccio grazie ad un'indagine partita da alcune voci di paese legate ad un bar utilizzato come luogo per la vendita dello stupefacente. L'attività investigativa ha permesso ai militari di scoprire come i clienti, una volta entrati nell'esercizio a gestione familiare, venivano accompagnati da uno dei titolari, un 33enne del posto, nella sua abitazione adiacente al bar, dove avveniva la compravendita, soprattutto di marijuana e cocaina. Il tutto senza che il resto della famiglia del 33enne si rendesse conto di nulla. Lunedì sera il blitz ha scattato nel momento in cui è entrato nell'esercizio pubblico un assuntore già noto alle forze dell'ordine. Il proprietario si è allontanato con lui, lasciando inavvertitamente la porta di casa socchiusa. Ci siamo appostati e abbiamo sentito provenire all'interno un forte odore di marijuana, tant'è che abbiamo deciso di irrompere nell'abitazione e al nostro accesso abbiamo visto appunto che la persona tratta poi in arresto, si è piegata su se stessa per celare, per coprire il quantitativo di marijuana che poi abbiamo sequestrato. Durante la perquisizione i militari hanno trovato sul letto 325 grammi di marijuana, nell'armadio in camera 298 grammi di cocaina e altre due dosi di coca nascoste nella cappa. Bicarbonato, usato per tagliare lo stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. 200 euro in contanti e un grammo e mezzo di MDMA, sostanza nota con il nome di Ecstasy, il secondo rinvenimento negli ultimi mesi. Oltre ad alcune bottiglie di plastica attrezzate artigianalmente con fogli d'alluminio e cannucce per fumare la polvere bianca a modi narghilè. Il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, trasferito nella stessa sera al carcere di Sondrio. Il GIP ha poi convalidato la custodia in carcere. Tutto il lavoro è stato fatto in sinergia con tutto il personale della stazione di Bormio, sfruttato sia in abiti civili che in uniforme e con le auto di coniore di istituto. È stato un evento importante, è stata un'operazione importante perché ha visto coinvolto l'intero reparto. Ancora un arresto per droga in Altavalle, certamente non il primo per i militari coordinati da Capitano dei Carabinieri di Tirano, Luca Mechilli. Sicuramente gli ultimi arresti ci fanno ritenere che anche in Valtellina questo fenomeno abbia preso piede. Diciamo che le dimensioni non sono preoccupanti, non c'è un allarme sociale, però c'è sicuramente il dato che è stato portato alla nostra attenzione della presenza di alcune basi dove la sostanza viene venduta e a volte anche coltivata, come abbiamo già accertato in passato, con la scoperta di alcune piantagioni di marijuana, soprattutto nella media-alta valle. È un settore come quello dei reati contro il patrimonio, in cui ci stiamo impegnando, stiamo investendo notevoli risorse, proprio per prevenire il fenomeno e laddove è necessario contrastarlo in maniera energica ed efficace. L'ANAS ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi l'esito di tre gare d'appalto per complessivi 15 milioni di euro destinati alla manutenzione della pavimentazione della segnaletica orizzontale su strade statali della Lombardia nel prossimo triennio. Nel dettaglio il primo esito di gara riguarda per la provincia di Sondrio le strade statali 39 del Passo di Aprica nella parte da Corteno Golgi a Edolo e il tratto della strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga da Cinisello Balsamo in provincia di Milano a Geralario in provincia di Como. L'appalto è stato affidato all'impresa Beozzo Costruzioni di Villa Bartolomea in provincia di Verona. L'impresa aggiudicataria del terzo e ultimo appalto, il secondo non riguarda strade statali a noi vicine è la Deonna di Belluno che si occuperà dei lavori ancora una volta lungo la statale 39 del Passo d'Aprica nel tratto ricadente in Valtellina, 38 dello Stelvio, 37 del Maloia, il tratto della strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga da Geralario a Madesimo e della statale 301 del Foscagno. Ci sono anche 400 valtellinesi e valkiavennaschi precari tra le migliaia di professori che hanno deciso di tentare il concorsone, il test che metterà in palio 63.000 cattedre in tutta Italia. Una lotteria tra i poveri, così è stata definita questa prova, soprattutto in considerazione dei tempi ristretti concessi ai potenziali candidati di prepararsi. Poco più di un mese è trascorso dalla pubblicazione dei bandi dall'inizio degli iscritti che proseguiranno fino al 31 di maggio. Terminati gli iscritti, ai primi di giugno prenderanno il via le correzioni per stabilire quanti docenti potranno proseguire la corsa e sostenere le prove orali. Si è chiusa lo scorso 21 aprile la prima stagione teatrale del rinnovato Teatro Sociale di Sondrio. Vediamo com'è andata. Aspettative confermate, quelle legate alla prima stagione teatrale ufficiale nella rinnovato Teatro Sociale di Sondrio che il 2 ottobre 2015 ha alzato il sipario con il barbiere di Siviglia di Rossini che ha fatto, insieme alla replica il giorno successivo, registrare le prime serate da tutto esaurito con annesse e lodi di pubblico e cast. La struttura impegnata in un'operazione di recupero durata circa sette anni per altrettanti milioni spesi doveva divenire la casa della cultura della provincia e così è stato come evidenziano i numeri raccolti e diffusi dall'amministrazione del capoluogo al termine del cartellone che si è chiuso lo scorso 21 aprile. I dati SIAE legati ai posti venduti sono significativi 469 abbonati, 560 spettatori paganti in media e un bilancio più che soddisfacente anche in termini di gradimento. I dieci appuntamenti previsti dalla rassegna di Sondrio Teatro hanno riscosso sempre un notevole successo anche grazie all'impegno che l'Associazione Amici del Teatro Sociale ha profuso nel promuovere l'attività e l'amore per il teatro proponendo incontri di approfondimento letture speciali sugli spettacoli in scena approfondimenti su testi, autori e scenografie iniziative partecipate e apprezzate. E mentre si è appena chiuso il calendario di debutto anche la prossima stagione ancora in corso di elaborazione anticipano i responsabili sarà certamente all'insegna della pluralità di linguaggi La presentazione ufficiale è già prevista prima dell'inizio dell'estate Il Mello Blocco, il più grande raduno di bouldering e arrampicata del mondo che si terrà in Valmasino dal 5 all'8 maggio ha svelato il suo ricco programma tra gli eventi che si svolgeranno al Mello Blocco Village presso il centro polifunzionale della montagna in Valmasino non può mancare il building con tante altre attività collaterali come yoga, foto e video concorsi, field time, workshop e test professionale per la valutazione della composizione corporea, nutrizione e idratazione Buona riuscita per la serata di presentazione del romanzo di Lucia Lisardi Una notte di luna nuova e del saggio di Massimiliano Greco La nostra identità, il caso Scarpatetti entrambi premiati a Expo 2015 l'incontro organizzato presso la sala della Banca Popolare di Sondrio a Tirano in Piazza Cavour ha visto la partecipazione di un pubblico attento e curioso che ha interagito con gli autori in modo costruttivo Ed ora ci spostiamo in Alta Valle andiamo a Livigno per scoprire in anteprima cosa ci riserverà la prossima estate Vediamo Bici, corsa, golf, sport aquatici, trekking a Livigno non ci si ferma mai lo sport è il filo conduttore per l'estate in quota i trend turistici lo dimostrano in turismo sportivo è quello che attira di più ancorata al quinto posto per numero di visitatori l'Italia è una delle mete preferite da chi ama un soggiorno breve o lungo che sia all'insegna dello sport un italiano su quattro cilia la meta della propria vacanza anche in virtù dell'offerta sportiva e Livigno sotto questo aspetto non si è fatta trovare impreparata da anni infatti la località dell'Alta Valtellina ha puntato su formule active che abbinano alla bellezza e unicità del territorio diverso occasione di praticare attività sportiva sia all'area aperta che indoor partendo dalla corsa il 26 giugno da non perdere la prima edizione della Livigno Sky Marathon competizione da 32 km inserita nella Sky Running World Series i Runners più tranquilli invece è dedicata alla strada Livigno la classica mezza maratona del piccolo Tibet che si svolge il 23 luglio e chi cerca la corsa estrema non può perdersi la prima edizione di Icon Livigno Extreme Triathlon gara di corsa, nuoto e ciclismo in calendario 3 settembre non mancano nemmeno le occasioni per gli amanti delle due ruote per gli stradisti Livigno offre la possibilità di pedalare i sui passi alpini che hanno fatto la storia del ciclismo dallo Stelvio al Gavia dal Mortirolo al Bernina se la scelta invece ricade sulla mountain bike Livigno offre di tutto e di più dai sentieri realizzati ad hoc per un totale di 3.200 km al bike park attrezzato per gli appassionati del Downhill ce n'è anche per chi non può rinunciare agli esporti acquatici il lago di Livigno è un'attrattiva per gli appassionati di queste discipline che possono percorrerlo con canoa e barchi a remi windsurf, sup e imbarcazione rigorosamente non a motore da non dimenticare il centro acquatico più alto d'Europa Acquagranda Active U che ospita piscine sportive e ricreative dove allenarsi e divertirsi un altro master dell'estate è la Golf Training Area unica nel panorama alpino che ha come obiettivo quello di avvicinare al golf a molti sportivi e di diventare un importante strumento di allenamento ora non resta che scegliere l'attività più adatta a voi la danza come filo conduttore tra realtà diverse e montagne immacolate in un contesto in cui spazio e tempo si elidono di questo e altro racconta la mostra Danza sui mondi, danza sui monti che si terrà presso Palazzo Pretorio a Sondrio dal 6 al 26 di maggio l'esposizione a cura dell'artista milanese Rosa Maria Rinaldi crea un universo autonomo dalle potenzialità infinite dove i confini si azzerano, le città rinascono le forme si assottigliano, le prospettive si rovesciano e la forza di gravità perde attrazione la mostra è anche un omaggio alla città che la ospita costituito da 4 opere inedite nelle quali le cartografie dei monti e delle città della Valtellina diventano sfondo ideale per raccogliere nuovi passi di danza l'inaugurazione si terrà venerdì 6 maggio alle 18 Siamo in chiusura prima di lasciarvi vi ricordo il sito Radio TSN.tv il nostro mondo social Facebook e Twitter all'account Radio TSN e poi Youtube dove troverete questi ed altri servizi a cura della redazione di Tele Sondrio News ora spazio allo sport con Elisa Compagnoni grazie per essere stati con noi al prossimo appuntamento con l'informazione Lo sport Buonasera amici sportivi ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica questa sera apriamo con la palla a volo tanti gli appuntamenti in vista per la FIPA di Sondrio ecco cosa ci ha raccontato Bruno Savaris Con l'arrivo dell'estate la stagione del volley entra nel vivo il prossimo fine settimana a Prado e Varchivè nel Mast della Palla a Volo regionale grazie alle finali FIPA vanno il 14 femminili evento che vedrà la partecipazione delle 4 milioni di squadre di categoria dell'intero territorio lombardo i cui nomi si sapranno a breve poiché si stanno disputando proprio in questi giorni le fasi eliminatorie come ha confermato il presidente provinciale FIPA Bruno Savaris secondo me è un premio che il regionale ha voluto dare alla Palla Volo Chiavenna del presidente Ghigi che ha comunque sempre operato molto bene soprattutto nel giovanile e anche agli enti locali del luogo anche la comunità montana della Val Chiavenna l'assessore dello sport Luca Tognotti che è sempre vicino alla nostra realtà sul posto io prevedo che sarà sicuramente una bella giornata di sport anche perché sicuramente arriveranno in Valtellina le migliori squadre della Lombardia stagione che si è avviata anche per i più piccoli con il primo dei concentramenti di mini e super mini volley andato in cena questo fine settimana nel parco Villa Visconti Venosta di Grosio che nonostante le temperature decisamente poco primaverili ancora una volta richiamato a tantissimi bambini la giornata non è stata dei migliori c'era il sole ma c'era anche un vento freddo però nonostante tutto hanno visto la partecipazione tra i 450 e 500 bambini che hanno riempito completamente il parco insieme ai loro accompagnatori che alla fine gli organizzatori hanno detto c'erano tra i 1000 e i 1500 persone il prossimo appuntamento dedicato al mini e super mini volley tempo permettendo sarà questa domenica a Gordona sempre con lo stesso obiettivo giocare divertendosi i bimbi a quell'età lì devono solo giocare divertendosi, tralasciando i punti, le vittorie anche se poi a loro fanno piacere però, ripeto ancora, loro devono divertirsi per avvicinarsi a questo sport la cosa migliore è farli giocare il più possibile affinché loro, ripeto ancora, si divertino raggiungendo poi quella voglia di continuare a fare la pallavolo Intanto invece parliamo di rugby Valtellina super protagonista nell'ottava giornata della Coppa Italia di Rugby a 7 femminile che ha fatto tappa domenica a Sondalo con le formazioni di Como, Valtellina, Varese e SR e Milano nonostante il vento forte e le temperature tutt'altro che i primaverili le quattro formazioni si sono sfidate nei cinque turni che hanno decretato la classifica finale con quattro successi il Lodi si è aggiudicato il torneo mettendo in fila al Valtellina che ha conquistato il secondo posto Como, SR, Milano e Varese il prossimo appuntamento l'8 maggio a Pavia Ed ora invece passiamo al tennis la Leonessa di Albosaggia è tornata a ruggire Federica Rossi, 14 anni e giovane talento del tennis per il crescere di livello è scesa in campo ieri in un torneo internazionale di Salzo Maggiore un cammino non di certo facile considerato che la manifestazione era riservata alle categorie Andre 18 di grado 2 eppure Federica ha mostrato tutta la sua grinta eliminando al primo turno la numero 3 del tabellone la cinese Shijikao che di anni ne ha 17 con un secco 6 a 1, 6 a 1 al secondo incontro la Valtellinese si è invece dovuta arrendere all'inglese Burrage è stata un'ottima esperienza ha commentato Federica anche perché uno dei tornei di più alto livello sono soddisfatta la bella prestazione di Federica ha permesso il pass per il tabellone principale del torneo Andre 18 di Prato e con questo si conclude il nostro notiziario vi auguro buona serata a sentirci domani amici sportivi